Quest'oggi andrete a parlare del progetto cacao sostenibile che si pone un obiettivo decisamente ambizioso ma molto importante entro il 2025 100 per cento di produzione di cacao eco sostenibile perché oggi è importante raggiungere questo obiettivo e soprattutto come state cercando di raggiungerlo? Per noi è un progetto direi determinante inserito all'interno del nostro bilancio di sostenibilità e l'obiettivo è appunto entro il 2025 di arrivare ad utilizzare in tutti i prodotti a nostro marchio prodotti sia internamente dalle nostre produzioni oppure da nostri fornitori terzi utilizzare cacao 100 per cento sostenibile e completamente tracciato. È un obiettivo decisamente importante perché ci consente di dare intanto ai nostri clienti totale trasparenza su quello che facciamo, sulla qualità che noi vogliamo offrire ai nostri clienti per questa tipologia di prodotto e soprattutto questo progetto ha alle spalle anche un intervento da un punto di vista, un intervento reale e concreto presso le popolazioni del Togo alle quali noi vogliamo offrire sostegno ma nel vero senso della parola perché sostenibilità non significa sostentamento, significa aiutare queste popolazioni a crescere per poter essere un domani completamente autonome e continuare a lavorare indipendentemente su queste e sulle loro coltivazioni. Grazie a tutti!